La banca Tercas domina la Benetton Treviso ma perde all'ultimo secondo, 76-78. È stato un vero peccato aver perso una gara che Teramo meritava ampiamente di vincere. Treviso costretta sempre a rincorrere e alla fine ha avuto una grande dose di fortuna con la tripla di Vigiano proprio sulla sirena. Si comincia con un minuto di raccoglimento in memoria di Roberto Pelillo, grande tifoso del Teramo Basket scomparso in settimana. Il primo quarto è all'insegna dell'equilibrio. La banca Tercas difende forte con due triple consecutive di Amoroso al quinte già più 5. La Benetton non sta a guardare e riprende subito i teramani con un ispirato moldoveanu e la prima frazione si chiude 18-17 per Teramo. I biancorossi prendono in largo nel secondo quarto. Brandon Brown mette in campo tutta la sua grinta. Magret fa centro dalla distanza. Amoroso arriva a quota 10 punti e una tripla di Di Brown allo scadere dei 24 secondi regala il massimo vantaggio ai biancorossi più 13-34-21. Difesa a tutto campo e buone percentuali la ricetta del momento magico di Teramo. Ma a raffreddare la gioia del Palascaci pensa Gorì che con 7 punti di fila accorcia le distanze mandando le squadre a riposo sul 39-31. In avvio di ripresa Treviso continua a rosicchiare lo svantaggio. De Nicolao infila tre bombe e gli ospiti risalgono fino almeno 1-49-48. Per fortuna c'è Amoroso in serata di Grazia che con due triple tiene a gala i suoi ma un incredibile fallo fischiato a Polonara manda sulla lunetta Vigiano per il 56-52 dell'ultimo riposo. Ultimo periodo al Cardiopalma. Teramo difende forte, allunga con un ottimo Green 10 punti di fila per lui e torna sul più 8. Ma i Veneti restano sempre incollati alla gara. Teramo torna all'assalto con Di Brown spreca due liberi e Treviso resta lì 76-75. Nei 30 secondi finali Green sbaglia sotto la plancia pressato dai lunghi trevigiani. Il capovolgimento di fronte ha dell'incredibile Becirovic conquista il rimbalzo e illumina con un assist vigiano che sulla sirena segna la tribla della vita che regala la gioia più grande ai suoi, il canestro della vittoria e della beffa per Teramo. Lo scout, il miglior esattore nella banca terca Samoroso con 19 punti, Green 16, Di Brown 14, Brandon Brown e Goodes 7, Magret 5, Polonara e Cerella 4, il miglior esattore della Benetton Treviso e Gorì con 18 punti. La chiave di lettura tecnica di questa gara? Chiave di lettura tecnica? Sicuramente cambiando un po' le difese abbiamo trovato tanto dalla nostra zona. Abbiamo colpito alcuni tiri importanti in terzo e quarto tempo da parte di De Nicolao che di solito non è questo terminale offensivo però abbiamo deciso di mettere De Nicolao in ogni attacco nell'angolo perché sapevamo da dove venivano le rotazioni. Infatti tutti i tiri che ha preso, l'ha preso meno uno, tutti gli angoli. Quindi è stata una tatticamente la gara molto giocata perché ovviamente Teramo ci conosce, fa scouting, era prontissima per il nostro gioco. Alla fine abbiamo tirato veramente un carattere, una magia da parte di Vigianio che tra l'altro gli dobbiamo fare gli auguri perché domani nasce il suo primo figlio o figlia. Ramaglio è un vero peccato aver perso all'ultimo secondo un grosso regalo di Teramo. Sì, un grosso regalo perché avevamo la partita in mano, mancavano 26 secondi e il possesso con un punto di vantaggio. Quindi bastava farsi fare fallo, loro hanno deciso di non farlo, mi sembra abbastanza evidente. Noi incomprensibilmente siamo andati a prenderci un tiro affrettato, inutile. Dovevamo semplicemente tenere la palla nelle mani dei nostri migliori tiratori di liberi, farci fare fallo o in alternativa scagliare la palla verso il loro ferro all'ultimo secondo. Gli avremmo lasciato due secondi per tirare, loro non avrebbero fatto in tempo neanche a prendere il rimbalzo. Invece abbiamo affrettato il tiro, lasciato a loro cinque secondi e mezzo e in quei cinque secondi e mezzo ci hanno castigato. Bancaterga si ha messo tanta energia difensiva, insomma sempre avanti nel punteggio. Eh lo so, però alla fine conta il risultato, il risultato dice che abbiamo perso i due. Quindi a maggior ragione ti girano le scatole perché quando giochi, ti sbatti, costruisci, brecchi, vai avanti, conduci e poi alla fine rimani con un pugno di mosca in mano, l'avarezza è tanta.